Rinasce Forza Italia e ci si riorganizza anche sulle rive dello Ionio, la prima convention a Rossano dove si è discusso presente, passato ma soprattutto futuro. Chiuso il capitolo PDL, il consigliere regionale Giuseppe Caputo, punto di riferimento regionale per la nuova Forza Italia, è stato tra i primi a scegliere di aderire al partito di Berlusconi e così ha spiegato di fronte ad una platea numerosa le ragioni della naturale scissione. Caputo ha parlato di coerenza e riconoscenza nei confronti di Silvio Berlusconi. Io sono un uomo di destra, credo che questo sia un fatto scontato, non trovo nessuna difficoltà che il contenitore ieri si chiamasse PDL, oggi si chiama Forza Italia, perché in questo contenitore possiamo mettere a fuoco, possiamo metterci a seconda delle istituzioni che rivestiamo, mettere, continuare a servire la gente sia nei comuni e sia nelle altre istituzioni. Un incontro in cui Caputo ha parlato di esperienza politica sofferente, riferendosi al suo mandato di consigliere regionale, a causa di un cambiamento annunciato ma mai avviato da scopelliti, con scelte politiche regionali penalizzanti per le città di Rossano e Corigliano e per la si baritide tutta. Il riferimento è a sanità, trasporti, giustizia e lavoro, presente anche il sindaco di Rossano, Giuseppe Antonotti e diversi amministratori. Per Caputo, da sempre uomo di destra, Forza Italia vuol dire restare a casa, non vede altrove partiti di destra. A quanta destra c'è in Forza Italia? Ma credo che ce n'è abbastanza, ce n'è nella percentuale giusta dove possono convivere uomini di centro e uomini di destra. Il PDL era la stessa cosa, nel PDL c'erano uomini che provenivano dalla democrazia cristiana, c'erano uomini che provenivano da N, c'erano uomini che provenivano dal Partito Socialista. Non vedo oggi questa difficoltà, perché dovremmo avere una difficoltà maggiore nel trovarci a avere come contenitore Forza Italia? Io onestamente non la trovo questa difficoltà, mi trovo perfettamente a mio agio e vogliamo andare avanti in maniera molto spedita e molto tranquilla. Per Caputo quindi Forza Italia è la scelta naturale dopo lo scioglimento del PDL. Da gennaio si partirà con la Costituzione sul territorio dei primi circoli Forza Silvio per poi passare al Congresso Nazionale.